Seduta di rifinitura stamane per l'Agropoli in vista del match di domenica con il Torrecuso. Notizia dell'ultima ora, la prefettura di Salerno ha vietato la trasferta ai tifosi ospiti e quindi i tagliandi d'ingresso saranno acquistabili solo dai tifosi locali. Dopo la qualificazione in Coppa Italia, l'Agropoli vuole chiudere il trittico di partite in una settimana con la classica ciliegina, battendo il Torrecuso capolista e ancora imbattuto in campionato. Qualche problemino per Mr. Pirozzi dovuto a qualche acciacco più o meno grave, come quello di Scognamiglio che al 90% non sarà della gara, anche se gli esami strumentali hanno escluso danni rilevanti. Recuperati gli altri, Mr. Pirozzi così dichiara, era una settimana decisiva per il nostro cammino. Sono arrivate due vittorie in campionato e in Coppa, ho avuto delle risposte importanti dal gruppo, anche da chi ha giocato meno e questo mi conforta. Ora vogliamo completare l'opera battendo il Torrecuso. Ho fiducia perché ho visto la squadra in crescita e come dico sempre, vincere aiuta a vincere. Altri incroci in questa settimana, giornata con la battipagliese che fa visita all'Agragas e che magari potrebbe favorire i Delfini facendo punti accorciando la classifica.